30 settesima passeggiata ecologica 25 aprile 2024 l'appuntamento è ad Avetrana l'iniziativa parte dal comitato passeggiata ecologica ed è patrocinata dall'amministrazione comunale ma come sempre i protagonisti sono anche le associazioni sul territorio io partirei da Grazio Scarciglia che è il presidente del comitato passeggiata ecologica intanto per fare un po' di storia di questo evento che ha 37 anni e non è semplice per nessuno organizzare iniziative che poi con la storicità e con il successo diventano eventi senza scopo di lucro in questo caso allora presidente quando è nata quest'idea? allora questa è nata esattamente 39 anni fa che poi per via del covid due anni di incubazione via del covid ah per il covid quindi due anni di stop per la pandemia esatto e allora c'era diciamo la rivoluzione in Avetrana per il nucleare che volevano fare e per noi era quando è stata rimandata cioè bocciata nel senso che era una vittoria era una liberazione diciamo no? ecco perché è stato scelto il 25 aprile per la liberazione d'Italia di allora quindi questa data non è come immaginavo non è assolutamente casuale ma ha un significato liberazione in questo caso perché diciamo c'erano questioni importanti sulle quali avevate preso come comunità posizione la centrale nucleare se ricordiamo all'epoca volevano proprio installarla al confine del comune di Avetrana e quindi si creò come tra tutte le proteste che ci furono Avetrana era in quel momento la torre principale delle proteste che sono state anche a livello nazionale per bloccare la costruzione delle centrali nucleari in Italia e allora si inventarono l'oro più grandi e questa forma di manifestazione che voleva essere all'inizio una protesta, una protesta pacifica molto pacifica come sempre abbiamo fatto a Avetrana per tutte le situazioni che ci hanno toccato da vicino e allora inventarono questa passeggiata ecologica proprio come segno di ecologica appunto per il rispetto dell'ambiente e del territorio ecco siete stati un po' antesignani perché questa oggi diciamo si punta tanto sui temi dell'ecologia e sono tante anche le iniziative a tema ma 37 anni fa non era proprio così è vero Presidente? molto diverso avete fatto un po' da prepista diciamo e siete riusciti a portare avanti questo progetto per un lungo periodo e ringraziamo il Signore che ci dà questa volontà e questa forza dico anche l'età mia c'è ma lei che è stato mi pare di aver capito uno dei padri fondatori di questa passeggiata diciamo uno dei protagonisti storici esatto diciamo così ha visto tante edizioni ha vissuto tante edizioni sì 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 com'è cambiata questa passeggiata nel tempo? ma non lo so per me non è cambiato niente perché ripeto è sempre la prima ah ogni edizione è sempre la prima è sempre la prima è la volontà proprio che ci dà dalla forza nostra che non lo so neanche io come ripetere è un po' emozionato Presidente? sì è un po' emozionato è la prima volta è la sua prima volta in televisione nella vita c'è sempre una prima volta ma qui facciamo una chiacchierata tra amici anzi però che non ci vede nessuno sto scherzando ovviamente è un modo per tranquillizzare gli ospiti in un momento in cui evidentemente di fronte alla telecamera hanno un minimo di soggezione allora Alessandro ci troviamo con te questa passeggiata ovviamente veicola dei messaggi che sono importanti e nel tempo sarà anche cambiata in termini di partecipazione magari possiamo parlare anche del percorso che voi avete allora per quanto riguarda gli obiettivi sono sempre gli stessi e ripeto sono la tutela dell'ambiente e del nostro territorio dicevamo che nasce per combattere la costruzione della centrale nucleare ma nel corso degli anni cambia non gli obiettivi perché rimangono sempre quelli però diciamo debellato il problema, il pericolo della centrale nucleare è iniziato per esempio il problema della costruzione di un depuratore che per anni abbiamo sentito parlare che prevedeva lo scarico a mare quindi la passeggiata ecologica aveva come obiettivo quello di fermare lo scarico a mare del depuratore quindi per diversi anni è alla base e poi di volta in volta si manifesta pacificamente resta una manifestazione pacifica di protesta per scongiurare il pericolo diciamo che storicamente si presenta in quel momento e poi anche una forte ecco parlavamo dei percorsi è una forte forma di promozione del territorio e di conoscenza anche per i nostri cittadini che spesso ognuno di noi non conosce il territorio in cui vive e quindi durante i percorsi noi andiamo a toccare le masserie rurali storiche del comune di Avedrana o i campi di Uliveti tenuti in una certa maniera murette a secco e quindi anche le spiegazioni, la visita di questi luoghi adesso arriviamo anche a questo aspetto che è quello che riguarda la promozione del territorio che si abbina bene con i temi ecologici ma siccome questa poi fondamentalmente nasce come protesta lo ripetiamo e lo sottolineiamo pacifica ha fatto tappa anche nei punti in cui sarebbero dovuti sorgere questi impianti ad esempio quello nucleare oppure il depuratore? come no? quindi vuol dire che il percorso è variabile? ogni anno cambia il percorso nel limite delle nostre possibilità perché comunque poi vai a toccare anche strade di competenze di enti esterni a volte siamo andati addirittura siamo sfociati nella provincia di Lecce o può capitare nella provincia di Brinzi quindi serve un'autorizzazione particolare e certo, i primi anni si andava a toccare i punti in cui doveva nasce la centrale nucleare spesso negli ultimi anni il ristoro una forma di ristoro che viene fatta a metà della passeggiata è stato realizzato, è stato fatto proprio nel punto in cui doveva venire lo scarico a mare e quest'anno per esempio verrà fatto a Torre Colimena dove è previsto lo scarico emergenziale in mare di quel depuratore ecco, è una forma, cerchiamo con la vastità ecologica di non far abbassare l'attenzione sui problemi ambientali del territorio alla nostra comunità e fino a questo momento diciamo che avete ottenuto i risultati sperati in parte, non del tutto in parte perché in che cosa invece di cosa non siete pienamente soddisfatti? riguardo al depuratore? sì no, nel senso a volte ce l'avete fatta a raggiungere l'obiettivo come nel caso diciamo della centrale nucleare perché quel pericolo è stato scongiurato per quanto riguarda il depuratore invece la situazione qual è? certo, è cambiata tantissimo rispetto all'inizio dove era previsto uno scarico diretto in mare con una condotta sottomarina poi non, certamente ora, non grazie alla vastità ecologica ma anche grazie al Comitato di vastità ecologica e tutte le altre associazioni e istituzioni che si sono mosse contemporaneamente è stata eliminata la condotta sottomarina poi era previsto lo scarico hanno cambiato più volte i progetti di scarico oggi, ecco perché dicevo in parte è previsto lo scarico complementare quindi solo lo scarico complementare nel bacino di Torre Colimena e quindi vuol dire nel mare ricordo che lo scarico complementare è quello scarico di refoli non depurati sì e quindi andrà a finire direttamente in mare o tramite il bacino che è sempre mare quindi abbiamo vinto in parte avete vinto in parte siete riusciti ad accentrare obiettivi più o meno pienamente sostanzialmente però non abbassate la guardia mai quest'anno che percorso è previsto, Presidente? si parte dal centro di Avedrana e si fa poi non ho solo l'elenco qua no vabbè indicativamente si fa il giro per Chidro sempre verso San Pietro in Bevagna fiume Chidro poi si prende la Tarantina diciamo la Marugio quella che dovrebbe essere la Bratannico-Salentina ok la Marugio-Nardò e si gira di fronte all'Urno la zona Urmo zona turistica di Avedrana si gira e si va verso la Litorania di cui poi si va a Torre Columena verso Torre Columena si va dove c'è il ristoro in piazza si darà un panino con l'acqua alcol o niente non esiste l'alcol beh dopo una passeggiata immagino insomma che siano persone che in qualche maniera tengano anche alla forma fisica e al benessere diciamo allo sport per cui zero alcol verranno messe dei cartoni grandi per mettere le le buste, carte la raccolta differenziale per la raccolta dopodiché poi dopo il ristoro si ritornerà in Avedrana Alessandro è previsto un orario di inizio un orario di arrivo come vi siete organizzati? ogni anno perché poi magari io non so se c'è ancora tempo per le adesioni quindi dobbiamo essere in qualche maniera puntuali anche con i telespettatori che magari non conoscono l'esistenza di questo evento e che decidono di venire di partecipare di provare a partecipare il Comitato di Bastità Ecologica continua a fare non l'escrizione ma a raccogliere adesioni in piazza Vittorio Veneto presso il si appoggia ecco questo è importante secondo me da dire si appoggia nella sede dell'Associazione Nazionale Combattente interreduci di Avedrana e lì si può aderire alla pasticciata ecologica mi aveva chiesto i dettagli i dettagli allora la mattina si parte alle 8 8 e mezza 8 e 30 mio padre è più preciso alle 8 e 30 ed è previsto l'arrivo alle 13 quindi è un bel giro dove si intersegano diversi ambienti mi spiego meglio la prima parte sarà toccata che toccheremo sarà quella degli uliveiti di Avedrana e delle masserie per poi arrivare sulla costa e quindi il mare territorio e mare sempre uniti per noi ma il presidente viene in bicicletta? il presidente va in macchina ma nel senso che loro cominciano molto presto e loro cominciano già alle 3 del mattino perché poi ecco questa è poi la cosa bella della pastiglia ecologica sono tante associazioni tanti esercizi commerciali che insieme si uniscono per la buona riuscita della manifestazione arrivano i panini dai forni della Avedrana arrivano i panini belli caldi e freschi e gli esercizi commerciali che si occupano di attività alimentare portano i vassoi con il prosciutto e il formaggio già fettato fresco e loro sono pronti c'è una macchina che lavora perfetta perfettamente e beh dopo 37 anni diciamo come organizzazione penso sia imbattibile quello che deve fare per dare il proprio contributo tu invece vai in bicicletta perché mi pare di aver visto una tua foto io vado in bici adesso le commentiamo insieme vado in bici e porto ora anche i miei bambini perché deve essere una tradizione da rispettare e le tradizioni vanno sempre rispettate e poi rivolte alle nuove generazioni e poi è storia anche è storia del nostro paese fa parte della nostra cultura e anche educazione civica educazione ambientale e abbiamo il dovere come cittadini più grandi e come genitori soprattutto di trasmetterlo ai nostri figli e quindi stava dicendo qualcosa Presidente io non vado con la bici perché sto in piazza Torre Columena ad organizzare il ristorico purtroppo purtroppo ci deve essere qualcuno l'ha da organizzare e anche perché ripeto incominciano a mettere le macchine e robe del genere no più o meno Alessandro quant'è lungo il percorso per avere un'idea 22-23 km 22-23 km dalle 8 e 30 raduno alle 8 immagino fino alle 13 poi potete tornare tranquillamente a casa a mangiare diciamo le polpette della domenica dalle immagini che stiamo vedendo scorrere ecco qui Alessandro con la famiglia e quindi c'è tanta adesione tantissima adesione più o meno quanta gente partece la media sarà sui 2000 circa di adesioni poi ci sono quelli che parteciano parliamo di 3-4 mila persone ed è costante e la cosa bella è che dopo 37 anni è costante o crescente? ma più o meno la media è sempre quella più o meno è sempre quella un anno c'è qualche un numeretto in più un numeretto in meno ma la media è quella ci sono anche delle foto storiche che io vorrei commentare con voi si vede che non sono foto recentissime che situazioni è questa? commentiamole chiedo alla regia di fermarsi su queste foto di non farle scorrere così velocemente in maniera tale che si possano commentare questa la ricordo bene perché era la prima per mio figlio che aveva quanti anni? piccolissimo e lì aveva 3 anni sì se non era aveva 3 anni ed era proprio nel mezzo della passeggiata ecologica là ci troviamo dalle parti di punta prosciutto sì e ci eravamo fermati perché poi essendo un corteo molto lungo a volte rischia sai quell'effetto fisarmonica lo cerchiamo di fermarci chi è in testa si ferma per cercare di raggruppare di nuovo tutto il corteo tutto il gruppo ed era bellissimo questa foto è memorabile per me perché all'epoca mio figlio c'entra poco con la passeggiata ecologica però mi ricorda proprio questo momento erano i primi periodi che aveva cominciato a fare la pipì da solo allora io gli chiedevo sempre devi fare la pipì devi fare la pipì l'ho stressato per tutta la passeggiata ecologica avevo paura però la passeggiata l'ha fatta andiamo avanti cambiamo foto vediamone un'altra presidente che cosa voleva dire perché lui non si ricorda quando era piccolino lui che io lo portavo e beh sì è una tradizione di famiglia io ero avanti perché 5-6 adulti ci mettiamo davanti più che altro per i giovani per dare il passo anche e lui era avanti da solo con la biciclettina piccola sì sì qui invece dove siamo Alessandro riusciamo a capirlo? questa foto vedo posso girarmi un attimo? verso l'Urmo sì sì qui dovremmo essere in zona Urmo-Belsito che è la località turistica del comune di Avetrana nei pressi dell'Urmo e lì ci fermammo come segno di protesta siamo fermi infatti se vedete la foto chi sta arrivando sta rallentando ma comunque noi siamo fermi segno di protesta perché lì nasceva e che poi è nato purtroppo il depuratore quel famoso depuratore per la quale abbiamo ci siamo battuti tantissimi anni andiamo avanti cambiamo foto vediamone altre vabbè andiamo avanti qui ci sono i bambini ok qui riesci a trovare dei riferimenti per capire qui dovrei specchiare credo sì comunque lungo la litorania lungo la litorania ah qui è l'inizio del ristoro infatti vediamo questo signore con la felpa rossa sta cercando di dirigere in qualche modo il traffico tra virgolette eh beh sì perché poi 3.000 persone quando arrivano tutte le persone si dividono su due file dove ci sono i due pulmini per il tramite appunto vengono distribuiti poi i panini l'acqua il ristoro prego presidente voleva dire qualcosa cambiamo foto nel frattempo no quelli sono quelli che fermano che bloccano tutto ok tutto il traffico diciamo ah questo è la benedizione l'inizio l'inizio di ogni passaggiata ecologica c'è la benedizione da parte del parlo ok quello è il nostro donno ok avanti andiamo avanti ecco qui la benedizione con tanto di applauso e qui è la partenza questa è la partenza ok spiegateci spiegateci questa bici così equipaggiata esatto bici proprio fatte apposta con il radio le casse della musica è bellissimo i ragazzi in alta voce i ragazzi si sbaglano allora aspetta Alessandro questa foto è bellissima perché queste due bici praticamente sono state unite ok sì sì e quindi loro portano in giro la musica portano in giro ma ce ne sono diversi lungo il corteo tu trovi questi ragazzi che per fortuna gli edano in qualche maniera anche il percorso è bello che hanno fatto un accrocco quest'anno quest'anno ci dovrebbe essere anche un premio alla bici più simpatica diciamo vedi ok quindi nel tempo diciamo avete arricchito questa manifestazione di momenti piacevoli e la sera se posso interromperti la sera e poi ci ritroviamo tutti in piazza e tutti gli esercizi commerciali di Avedrana in qualche maniera hanno precedentemente offerto dei doni da mettere in premio si fa un'estrazione si fa un'estrazione ci sono decine e decine di premi dalla cena per quattro persone a che ne so qualsiasi cosa ecco vengono offerte alle bici anche le bici sono meravigliose veramente è uno spettacolo andiamo avanti poi tutti i ragazzi quindi sicuramente diciamo è un valore è un valore aggiunto scorriamo vediamo che cosa che cosa possiamo proporre altro vabbè questo sei sempre tu con il piccino che nel frattempo sarà diventato grande non lo so e qui state nel centro della questo è sempre un momento della partenza siamo in piazza Giovanni XXIII ecco vedete si notano le luminarie e anche quest'anno sarà così perché poi il 28 e il 29 avrile c'è la festa patronale ok e quindi diciamo che questa passeggiata anticipa anche questo le festività diciamo questo momento allora a quanto siamo con le adesioni presidente lo sappiamo attualmente siamo sui 6-700 iscritti per adesso sempre così gli ultimi giorni sono gli ultimi due giorni che si combatte si combatte diciamo qual è l'episodio più bello che ti ricordi di questa passeggiata Alessandro magari anche da bambino perché hai ricordato l'episodio con tuo figlio magari anche qualcosa che vede coinvolto qualcun altro non necessariamente un episodio in particolare bello mi ricordo qualche caduta che non so quanto possa essere bello se non ci sono conseguenze tragiche o pesanti non è mai successo nulla di importante no però per me è sempre stato così è sempre stato bello sin da bambino ma oggi l'apprezzo ancora di più vedere la comunità unita che va in bici per un unico scopo è qualcosa di inspiegabile anche qui in televisione è bello vedere tutti gli esercizi commerciali che lavorano per la stessa giornata tutte le associazioni che lavorano per la stessa giornata è bellissimo allora noi tra l'altro garantiamo una partecipazione straordinaria eccolo lì insomma ci siamo ci siamo anche noi come Antenna Sud andiamo a rivedere il programma alle 8 raduno e partenza da Piazza Vittorio Veneto sorteggio alle 20 dei premi le iscrizioni dal 10 al 24 aprile dalle 16 alle 20 la sede il quartier generale è l'associazione nazionale combattenti e reduci e quindi quello diciamo è il desk per le prenotazioni ovviamente voi per questa iniziativa lavorate tutto l'anno immagino soprattutto i più grandi io dopo le ferie estive diciamo degli altri inizia già ad organizzarsi io già incomincio a tastare perché il risposto deve spingere certo vabbè avete anche il sostegno e la patrocina dell'amministrazione comunale allora siamo arrivati ai momenti dei saluti credo abbiamo detto tutto Alessandro grazie abbiamo detto tutto c'è un messaggio un appello che volete fare approfittando di questa ospitata mattina sud io un appello lo faccio solo diciamo più che altro ai giovani che c'è sempre qualcuno un po' state attenti stare attenti stare attenti a non farsi male quello è importante per noi per me e per evitare aggiungo di farci del male di far del male alla base c'è sempre il rispetto per gli altri soprattutto del territorio che ci ospita perché noi siamo ospiti di questo pianeta siamo ospiti del nostro territorio e abbiamo il dovere non il diritto di tutelarlo io vi ringrazio per averci raccontato insomma questo evento che per la comunità di Avetrana è particolarmente significativo che lancia un messaggio forte sotto il profilo ambientale poi come dicevate prima è anche un'occasione per mettere in vetrina il territorio e un'occasione per stare tutti quanti insieme la passeggiata fa comunità diciamo la mette insieme mette insieme gli avetranesi per una giornata tra l'altro il 25 aprile una giornata di festa buon divertimento perché la passeggiata ecologica è anche divertimento e buon lavoro presidente adesso poi fatta la passeggiata ha un po' di periodo di ferie anche lei poi deve riprendere subito per la prossima no già incomincio a vedere già incomincio a vedere non sono mai fermo allora vi ringrazio grazie a voi per la vostra disponibilità